Studentessa Daun si laurea con 110 elode. Giulia Sauro, 33enne napoletana affetta da sindrome di Daun, si è laureata in scienze politiche all'Università Orientale di Napoli con 110 elode. Nei giorni scorsi la neolaureata ha incontrato il sindaco di Napoli e il presidente della regione Campania. Il presidente la definisce un esempio di intelligenza, forza di volontà e coraggio, mentre il sindaco sottolinea che il caso di Giulia è il terzo caso in Italia di persona Daun ad ottenere il titolo accademico. Giulia si è laureata con una tesi sulla rivoluzione francese con lo storico Luigi Mascilli Migliorini come relatore. Ha anche ottenuto una borsa di studio attraverso il progetto Tutorato alla Pari.